Dall'ultima partita di playoff contro il Palermo a oggi praticamente non ci sono state suddivisioni o strade differenti, è come se non fossi mai andato via. L'anno scorso qua mi sono trovato bene, mi hanno aiutato da subito, ora è anche più semplice perché gran parte del gruppo è rimasto invariato, quindi mi sento a mio agio. Sicuramente mettere qualche palla in porta in più, ovviamente essere sempre a disposizione della squadra e dare il meglio che posso dare. La stagione scorsa ho avuto un paio di lacune e diciamo in linea generica un po' dappertutto perché non sono sicuramente un giocatore affermato nella categoria ma ho ancora molto da dimostrare. Sono molto contento di questo, ringrazio tutta la società per la fiducia, il direttore Musa, il presidente Iachini e tutto lo staff che verrà se mi darà la possibilità di esprimermi al meglio.